Adesso assaggiamo un'altra tortina Questa C'è arancio, cos'è? Ah c'è la pesca Assaggiamola per vedere com'è Perché quella dell'altra sera non era buona Buonissima Adesso assaggiamo questa E poi lanciamo i complimenti se è il caso Prendiamo che ci fa mangiare Ingruppa un pochino qua Asciuga un po' la cola Vuole bagnare con un po' di volte Però Ah si dai Te la faccio passare anche questa E' buona Lo carico su Youtube Eh cognata Buon appetito La tortina con la Pesca Buona Buona degustazione Contestiamo entrambi Buona degustazione